Buongiorno a tutti, bentrovati, dedicato a chi dice che siamo sempre chiusi nella nostra cucina, ma saranno poi anche cavoli nostri. Comunque siamo in questa location nuova, pronti per avvicinarci a questo inizio del campionato, meno 10, 3 agosto, siamo già al 3 di agosto, cosa ci racconteranno i nostri eroi adesso? Purtroppo non lo sapremo mai. Sempre al vostro fianco, ovunque, dovunque e comunque, pronti per questo campionato. Se fosse successa una cosa tipo quella di Pogba, che titoli ci sarebbero stati? Primo argomento di discussione della mattinata, visto che parlano in continuazione di questa preoccupazione Gosens solo perché ha avuto un sovraccarico di, diciamo, muscolare in preparazione dopo un problema che si era ripetuto all'Atalanta, dove era stato curato male ma andato in campo, andando, appunto, incontro a questa ricaduta che, quando l'abbiamo intervistato, insomma, si è capito come sia stato il momento più difficile in assoluto in una carriera in cui non ha mai, praticamente, avuto problemi di un certo tipo di livello. Adesso Pogba vedremo cosa succede. Intanto ha deciso di non operarsi per non rischiare di saltare il mondiale. Verrà fatta una terapia conservativa al ginocchio, fuori circa 35-40 giorni, e poi, comunque, il rischio che si ripresenti questo problema anche poi prima o durante il mondiale o dopo. Quindi un rischio molto alto. Però la preoccupazione è Gosens perché ha avuto questo sovraccarico, anzi, si è presentato troppo allenato facendo triathlon tutta l'estate, perché uno che ha problemi muscolari fa triathlon, che chi non lo sapesse è corsa bici e nuoto, proprio indicato per chi ha sofferenze o problemi e non è al meglio. Si è presentato troppo allenato e questo ha portato a un sovraccarico con tutti i lavori poi fatti ad appiano gentile. Adesso, sabato, ultima amichevole a Pescara contro il Villareal, non più una squadra francese ma una spagnola, e vedremo l'iter e la sua condizione per capire, appunto, la situazione e quello che può fare o non può fare. Ha saltato un paio di partite e sembra che caschi il mondo. Per chi non ha la memoria lunga, ce ne sono tanti, è stato il migliore agli ultimi europei con la Germania. Prima dell'infortunio credo che chiunque avrebbe firmato per fare uno scambio Gossensperisic. Insomma, poi sarà il campo a parlare, come sempre noi non diamo giudizi, diciamo, affrettati o che cercano di creare tensione, malumore, fomentare, come fanno i soliti noti. Ma voglio dire, cercate anche di capire, no? come anche fatto da alcune emittenti, trasmissioni, per giustificare i buchi presi su fronte di Bala, Bremer, si sono... hanno cercato di salvarsi, di coprirsi, puntando l'indice contro la proprietà e andando a raccontare cose scorrette e non giuste, come nell'occasione di Bala, per giustificare un buco sulla notizia che qui, fin dall'inizio, vi abbiamo sempre detto, di Bala solo come ciliegina sulla torta. Con l'arrivo di Lukaku l'affare di Bala si è stoppato e questo è successo, come confermano i fatti, e l'Inter non era più convinta di chiudere, così come il giocatore, di andare in una squadra in cui non sarebbe stato il protagonista come invece sarà a Roma. Quindi, per giustificare un buco, se la sono presi con la proprietà per spostare l'attenzione, il mirino su colpe di altri e cercare di, diciamo, togliere un po' di pressione a chi ha sbagliato la notizia, come su Bremer, in cui c'è stato un inserimento a far saltare il banco della Juventus e l'Inter, dico anche giustamente, anche se c'è chi, proprio per giustificare il suo errore, dipinge Bremer come Beckenbauer e un errore incredibile dell'Inter, vedremo, anche lì sarà il campo a parlare. Quindi, per spostare l'attenzione sui buchi clamorosi presi, si attacca la proprietà. Per spostare l'attenzione sul buco clamoroso preso con il 30 luglio, il 19 novembre, ci si accanisce contro la proprietà, contro Steven Zhang e il lancio della 500, da cui ci dissociamo in tutti i modi, tutte le forme che abbiamo visto in una serie di social. Poi, adesso Zhang con la maglia della Juve, perché qualcuno dice che sia stata a vedere Inter, sì, Juventus-Real Madrid. A parte che se vai a vedere Real Madrid-Juve, vai a vedere Real Madrid, non vai a vedere la Juve. e poi con tutti i progetti che ci sono in ballo da Superlega che può riattivarsi in altre modalità rispetto a quelle che non hanno funzionato in passato e anche, comunque, rapporti internazionali sia con il Real Madrid e la Juve, possibili anche affari, perché no? Non vedo perché uno debba essere raffigurato con la maglia della Juventus perché si dice, poi è tutto da dimostrare anche quello, sia stato a vedere e a incontrare persone chiaramente per spostare l'attenzione su su altro per giustificare dei buchi clamorosi presi, semplicemente quello. questione Digital Beats si sta diciamo complicando l'Inter è abbastanza tesa vedremo se ci sarà un'azione legale se ci saranno delle ulteriori misure intanto scomparirà il marchio dalle maglie della Primavera e di Inter Women quindi un'ulteriore diciamo presa di posizione forte dopo la mancata prima tranche che doveva arrivare e che non è arrivata vi abbiamo detto prima non ne avevamo parlato quando si è verificata la problematica che abbiamo scoperto tra i primi con la prima presa di posizione sul sito dell'Inter quando è stato tolto il marchio dalla serie degli sponsor perché l'abbiamo detto per primo sul nostro sito sito e il nostro staff per cui collaborano una trentina di persone perché noi facciamo informazione abbiamo canali seguiti social da più di centomila persone non stiamo qui al dopolavoro ferroviario con a fare video per impegnare il tempo cerchiamo di dare info informazioni come vi abbiamo detto anticipando anche l'equipe in Francia di Sanchez Marsiglia come abbiamo anticipato Times e tutti i più importanti giornali inglesi sul fatto che Lukaku non è un'operazione di solo un anno ma è un qualcosa che andrà a ripetersi anche la prossima stagione per portare poi a un acquisto definitivo del giocatore sempre che tutto vada nella direzione giusta perché comunque l'Inter si vuole tenere anche una via di uscita sempre per non ritrovarsi chiusa in vicoli stretti come è già successo ad esempio per Vidal o Sanchez negli ultimi tempi anticipando anche qui così poi non parliamo di Lukaku dove praticamente dobbiamo anche raccontarvi la storia la sapete meglio di noi insomma nata da quel mega scoop mondiale storico intervista di mio fratello e poi continuata dal sottoscritto quando nessuno nessuno credeva e non facendo il tiro al piattello cercando di indovina indovinello ma portando delle notizie reali quando realmente c'è stata un'apertura del celsi all'affare non cercando di pigliarci tra holland mappé lukaku e cialtronate varie questo per dirvi che siamo sempre qui al vostro fianco per cercare di portarvi notizie e informazioni oggi avremo qualche diciamo ulteriore elemento con il test contro la pergolettese per alzare ancora di più la sticella in vista dell'amichevole di sabato è arrivato il primo gol di lukaku e adesso si aspetta che si continui si migliori sempre su questa strada tracciata da inzaghi che vuole far crescere e dare sempre più forza alla lula ci eravamo dimenticati il tè caldo più famoso di youtube versione old school che torna così rabbioso con un super dean a darvi una sveglia se qualcuno si fosse addormentato poi andremo a fare un allenamento ma chi ci ha detto che dobbiamo dimagrire di 20 chili forse non si rende conto che non ci sta neanche più nell'inquadratura il nostro caro panariello pallonaro capirei se arrivasse da Brad Pitt un consiglio sullo stato di forma magari prima pensare in casa propria poi magari non non ci abbassiamo neanche questi livelli infimi sotto sotto terra sotto traccia cialtroneggiando a destra e a sinistra in attesa di portarvi anche una super mega edizione straordinaria con tante tante novità attenzione rimanete sintonizzati nel pomeriggio verso sera che potrebbero arrivare notizie golose e un video che potrà penso piacervi molto perché stanerebbe anche molti cialtroni state sintonizzati poi che dirvi Sanchez non si è ancora arrivati a un annuncio la sua storia di ieri però è la conferma che ormai ci siamo è stato l'addio diciamo alla sua maniera del campeon su Gosens l'Inter non è assolutamente preoccupata anzi lo sta aspettando e non intende andare a acquistare un esterno sinistro perché Di Marco ha offerto una super prestazione contro il Lione e vedremo se verrà provato in quella posizione ancora con Lukaku i suoi cross sono ancora più importanti e quindi potrebbe portare anche a un cambio di diciamo idee anche da parte di Inzaghi che fino all'anno scorso lo vedeva principalmente come braccetto sinistro e arma tattica noi siamo sempre molto ben disposti sul fronte Udoge e sul fronte Denayer per rinforzare la difesa però attenzione perché nelle ultime ore dopo l'incontro che c'era stato anche con Paratici che aveva offerto una serie di elementi in uscita non solo Reguilion ma anche Tanganga il centrale che piace al Milan l'Inter potrebbe potrebbe inserirsi in un derby di mercato per il centrale del Tottenham che potrebbe adesso bisogna capire con che modalità in presito con diritto di riscatto essere il rinforzo che manca per il reparto difensivo che fino a questo momento è l'unico diciamo tassello mancante andare a coprire quella che è stata l'uscita di Ranocchia con un centrale al momento l'unica diciamo l'unica necessità vera della Rosa poi il resto lo dirà al mercato in base anche alle offerte che arriveranno dal dal mercato il Chelsea continua a manifestare interesse per Dumfries ma anche qui come per il Paris Saint Germain per Skriniar la differenza è abbastanza importante tra domanda e richiesta si parla di un'offerta non ufficiale quindi non ancora arrivata di 25 milioni per Dumfries con l'Inter che ne vorrebbe 40 tutto da vedere verificare intanto dopo l'arrivo di De Keteler iniziano a scomparire obiettivi del Milan Renato Sanchez che qualche giornale ci ci scrive ancora in orbita Milan è ormai definito col Paris Saint Germain come avevamo anticipato sul nostro sito marcobarzaghi.com o chi segue il nostro canale Telegram Marco Barzaghi Inter iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e se c'è qualcuno che vuole entrare a far parte del nostro super team ci scriva perché stiamo allargando ancora di più il nostro staff proprio per essere sempre più sul pezzo addirittura abbiamo lanciato e stiamo preparando una versione in arabo dedicata ai pifferai del nostro sito ma non per per loro ma per arrivare a visto che c'è una richiesta importantissima anche ad aprirci a quel mondo che ha bisogno e vuole notizie e quindi stiamo ci stiamo rivolgendo anche a noi a quel mondo con una versione in arabo cammellante del nostro sito e dei nostri social dicevamo derby per Tanganga e può essere una sorpresa il Chelsea è andato a chiudere per un altro giocatore che era dato in orbita a Milan Cucueca non so come si pronunci comunque ci siamo capiti classe 2003 centrocampista che dunque dovrebbe diciamo far scemare la corte per Casadei perché bene o male è un altro centrocampista per cui ha speso risorse importanti e non ce ne dovrebbero essere più per Casadei che dunque torna in corsa per le squadre italiane Sassuolo Torino ma anche Sampdoria vedremo chi farà l'offerta migliore bisogna capire se l'Atalanta che ha preso Lockman quindi un altro attaccante ancora non ha ceduto nessuno tra Zapata Muriel e compagnia varia possa andare a chiudere per Pinamonti o cambiare un po' le sue strategie Di Sanchez oggi arriverà l'annuncio ufficiale della risoluzione del suo contratto con buona uscita di 7 milioni lordi beneficiando del decreto crescita altri nomi possibili sulla destra se dovesse essere ceduto Dumfries cosa che non escludiamo si fanno i nomi di Singo del Torino che non è male anche se è in scadenza 2023 questo potrebbe comunque abbassare notevolmente il prezzo della richiesta del Torino con cui si sono diciamo riallacciati i rapporti con Lazzaro Singo oppure Serginio Dest del Barcellona che non mi dispiacerebbe per niente potrebbe essere un nome molto molto interessante per la fascia destra o Lazzari tutto però dipenderà se arriverà o meno l'offerta giusta per Dumfries e non è scontato così come non si sta muovendo niente al momento sul fronte screener e questa direi che è un'altra buona notizia tutto dipenderà dal mercato al momento la rosa dell'Inter è praticamente fatta anche se qualcuno si dimentica tutti gli acquisti che sono stati fatti prima degli altri quindi Onana Mkhitaryan Bellanova Slani e Lukaku si aspetta di salutare il nostro campione e amico i campioni sono così che andrà poi a firmare un contratto di due anni con Marsiglia anche se a Marsiglia c'è una situazione molto diciamo esplosiva con parte della squadra contro Tudor e sta succedendo qualcosa di imponderabile anche lì e poi vedremo insomma come ci si muoverà in base alle offerte reali che arriveranno su Skriniar il PSG non si è più fatto sentire penso da un mese fermo l'unica l'unica e unica offerta che ha fatto da 50 milioni che sono lontanissimi dai 70 che chiede l'Inter vediamo cosa può succedere intanto direi che possiamo andare a leggere i vostri messaggi Kostic che qualcuno ha dato in orbita Inter non interessa e anzi sta per andare alla Juve dopo il rifiuto di Mertens per rinforzare la parte sinistra dove al momento si sta impiegando Quadrado ci sono arrivati ci è arrivato un documento molto interessante che approfondiremo magari anche qui nel pomeriggio adesso andiamo a leggere un po' di vostri messaggi prima dei giornali come sempre al vostro fianco in qualsiasi dove come su Milenkovic rimane un'alternativa possibile ma solo nel caso in cui dovesse uscire uno dei titolari De Vrij barra screener ma al momento anche lì non si muove nulla leggiamo un po' di vostri messaggi più popolari secondo il tubo Alec ma se Casadei è così forte non li si può tenere per un campionato al posto nel caso di Gagliardini è possibile è già stato aggregato alla prima squadra l'intenzione è cercarlo di mandarlo a giocare per farlo crescere ulteriormente e di mantenere una recompra sul giocatore e anche per questo penso sia positivo il fatto che il Chelsea abbia mollato la presa e sia andato su un altro obiettivo Lord Byron ci scrive ho deciso di seguirti sin dalla prima ora perché ti ritengo un professionista serio preparato e equilibrato il taglio che hai dato al tuo canale con garbo educazione e onestà fa sì che almeno per me tu viaggi una spanna soprattutto il panorama che YouTube propone e ti ringraziamo molto Lord Byron unico rilievo è il tempo eccessivo che impieghi per rintuzzare e ribattere e precisare le castronerie che girano sul web certi personaggi si definiscono da soli ma giusto anche rimarcarlo se continuano a a offendere anche pesantemente anche sul sul piano personale perché non hanno argomenti non sanno più di cosa parlare e dunque cerchiamo anche di mettere i puntini sulle i così poi tireremo fuori anche documenti e testimonianze molto interessanti attenzione ad alzare il livello perché poi ci si fa del male diventa molto pericoloso ci dissociamo naturalmente Luca Dossena finalmente l'Inter si è liberata di Sanchez anche se con qualche costo di troppo Gosens penso che appena entrerà in condizione sarà quello visto a Bergamo l'anno scorso gli infortuni hanno inciso parecchio situazione uscita e vedo più Dunfries che Skriniar sostituire un centrale come lui sarebbe complicato sostituire l'olandese un po' meno e ci sono anche già delle soluzioni in casa Darmian Bellanova ad esempio Giuseppe Barresi sono davvero orgoglioso di essere interista di averti dalla nostra parte sei un vero interista un grande professionista ascoltarti vuol dire scacciare via i fastidi che danno giornali pifferai eccetera eccetera grazie per il lavoro che fai grazie a voi per come continuate a far volare il canale sempre più forte sempre più seguito con numeri sempre più importanti Simone Leo invece pone l'accento su come l'Inter sia sempre bersagliata è veramente un peccato vedere il calcio italiano affondare nel fango giornali giornalisti opinionisti tutti per farsi pubblicità dicono tutto il contrario sempre contro l'Inter Marotta prende 5 giocatori in 4 giorni spendendo massimo 20 milioni cerca di vendere un big ma non lo svende e via le critiche ah sì vabbè ma l'Inter ha preso solo giocatori senza pagare niente non ci sono non ci sono guattrini e tutto è sempre buono per criticare proprietà e società Daie Barza grazie per i contenuti sempre puntuali e Daie che il 29 si arriva a 40k chi si preoccupa a parer mio sbaglia già abbiamo visto solo partite di precampionato dove si fanno esperimenti e non danno nulla di definitivo Fim ci scrive così poi non va dimenticato che abbiamo aggiunto un bel po' di giocatori che devono inserire se dunque ci vuole preparazione come soprattutto per chi ha un fisico importante vedi Dzeko che ha bisogno di tempo minuti giocare non capisco come si possa criticare Di Marchino nella partita di Cesena per me migliore in campo d'accordissimo ma lo fa chi non ha neanche visto la partita e vi dà tutta la il livello di questa di certi cialtroni senza vittimismo quando è che l'Inter non è stato il bersaglio primario di una generale narrazione negativa da quando memoria decine d'anni ci sono sempre state evidenze in tal senso di cosa ci sorprendiamo magari che queste critiche continue arrivino da tifosi interisti o pseudo tifosi perché questo sono nella rosa attuale all'Inter ho due dubbi la tenuta fisica di Gosens il numero di difensori centrali di ruolo che abbiamo solo tre per il tipo di gioco di Inzaghi però bastano e avanzano poi ne manca uno l'abbiamo detto è piacevole ascoltarti anche in vacanza Roby meno male che Sanchez è partito ora manca Pinamonti Casadei sinceramente non lo farai partire ma proverai a lanciarlo in prima squadra se ce ne sarà la possibilità se no giusto che si dia in prestito o con recompra per mantenere il controllo sul giocatore Luca Mambrini continuo a rilassarmi fino alla partenza del campionato sono sempre molto soddisfatto del mercato stamattina ho sentito mercato Inter disarmante e questo è parte della narrazione assurda che sentite fallimento totale vedremo poi cosa dirà il campo siamo abituati da anni ormai a questo atteggiamento dei media con tutto rispetto per Mr. Inzaghi ci vorrebbe un murigno mi sono dimenticato sulla questione Digital Beats che comunque si dovesse andare a una causa legale e oppure a una sospensione del titolo a insolvenze varie c'è la legge americana che garantisce che le banche fondi tra cui i trigaranti della azienda madre poi garantiscano investitori e creditori come vi abbiamo spiegato e quindi si potrebbe arrivare a una transazione e poi andare alla ricerca di un altro sponsor di maglia si sta cercando di evitare tutto questo però la situazione è sempre più diciamo determinata e dunque staremo a vedere che succede l'unico problema è che sono state già stampate 260.000 maglie forse questo non è da sottovalutare vedremo come come si riuscirà a venirne a capo comunque se si transasse con della liquidità e del cash a favore dell'inter e si trovasse un altro sponsor non sarebbe comunque male vi abbiamo detto nel nel caso estremo addirittura si potrebbe recuperare subito l'80% e quindi 60 milioni degli 85 previsti dal contratto ma non credo che si vada verso un qualcosa del genere perché ascoltare un salumiere un giornalaio parlare di calcio come se avessero solo loro gli scupe la verità potremmo farlo tutti a questo punto meglio affidarsi a professionisti onesti come Marco e pochissimi altri ma non ce ne vogliano a parte che massimo rispetto per tutti per tutte le professioni però quando vieni a farmi a farmi le lezioni di vita o lezioni sul mio lavoro nessuno penso che lo faccia sul tuo quindi rimani nel tuo se hai delle notizie più o meno attendibili prova a darle ma mister 19 novembre ancora il coraggio di riproporsi di che stiamo parlando sempre con rispetto del lavoro degli altri cosa che qualcuno non sa neanche di cosa sta parlando purtroppo in Italia siamo tutti commissari tecnici esperti di mercato e questa è anche la dimostrazione Filippo Tornaghi ci scrive il rumore dei nemici citazione del Vate di Setubal che sarà un bel avversario con una Roma che secondo me è molto molto forte Luca Clerici basta con l'odio tra interisti giù le mani da Marco Matteo Barzaghi grande Luca come sempre al nostro fianco a sostenere il canale e tutte le nostre iniziative grazie a chi sostiene attivamente il canale ai nostri abbonati Tiziano Di Fonso lascia stare le risposte a chi ti attacca a me non ne parli meglio per te meglio per loro ma anche giusto rimarcare alcune cose poi ci faremo una sana e grassa risata tutti insieme andiamo adesso alla nostra rassegna stampa Sport Mediaset home page dedicate all'arrivo di Decateler al mercato al problema Pogba della Juve con la decisione di non operarsi e vedremo se sarà quella migliore rischia tutto Pogba terapia conservativa ma potrebbe operarsi tra due mesi l'equipe Gelal Milan addio Sanchez è fatta col Paris Saint Germain come il sito marcoberzavi.com vi ha già detto da più di dieci giorni Sanchez mancano ancora alcuni dettagli per l'addio Pina Monti e sfida Sassuolo Atalanta andiamo alla Gazzetta dello Sport in copertina un derby da 90 perché Decateler ha scelto la maglia numero 90 come Lukaku mi sembra un po' eccessivo mettere sullo stesso piano un giovane che deve dimostrare ancora tutto con un top come Lukaku però il numero di maglia è lo stesso come la nazionalità i due belgi fanno sognare Milan e Inter Decateler ha firmato e Lukaku ha mandato il primo segnale di una lunga sfida per lo scudetto invece sulla questione portiere come vi ponete abbiamo fatto un sondaggio ieri nettamente vinto da chi vorrebbe Onana subito titolare ditemi anche voi cosa ne pensate leader e bomber Super Lukaku mostra i muscoli Inzaghi sorride il grande lavoro dell'estate sta pagando Romero sarà il top al via del campionato l'Inghilterra è già un record addirittura il Sun il tabloide inglese si è mostrato sbalordito da quella foto a torso nudo di Lukaku sembra incredibilmente in forma il commento questo a rispondere per chi dice che sia sovrappeso e poi Digital Beats via dalle maglie di Primavera e Women una presa di posizione dura che segna una nuova tappa nel braccio di ferro tra l'Inter e il suo main sponsor sulle magliette della Primavera dell'Inter Women nelle prossime uscite sparirà la scritta Digital Beats a causa del mancato pagamento della prima tranche relativa agli impegni di questa stagione e questa è la nuova mossa della società nell'Azzurra la situazione in divenire di certo non manca tensione l'azienda che ha lanciato la criptovaluta era sponsor di Manica quest'anno main sponsor con un nuovo accordo da 85 milioni per 4 anni ma non arriva nei pagamenti adesso si spera che ci possa essere più chiarezza il cambio di sponsor non sembra percorribile ma mai dire mai Zenga prende la sua posizione e dice scelga in Zaghi chi gioca in porta io sono dalla parte di Andanovic andiamo velocemente anche al Corriere dello Sport titolo dedicato a la paura della Juve preoccupazione nella pagina dedicata all'Inter Sanchez Adios attesa lunga per Pinamonti mentre si parla di Dumfries l'insostituibile ma attenzione a Lazzari Singo e Dest le parziali altra